Importante apertura al confronto, al dialogo a favore di tutti gli interessati, per lo più medici e operatori del settore. Vi è finalmente la comune tendenza a considerare la sanità un bene comune da riformare ovviamente con proposte migliorative. Così il consigliere IV, dopo che l'assessore Leone a Matera, presso l'auditorium dell'ospedale Madonna delle Grazie, ha illustrato il progetto di riordino sanitario. L'assessore Leone II IV ha dimostrato un'apertura completa a rivedere il progetto originario, dichiarando ampia disponibilità alla partecipazione di tutte le componenti della società civile nella redazione dello stesso. Gli operatori del settore, sempre II IV, hanno dimostrato il loro dissenso verso un accorpamento ingiustificato a favore dell'ospedale San Carlo di Potenza e ad una distribuzione non equa sul territorio regionale delle risorse. Non gradita anche la proposta di equip chirurgiche itineranti. Istituire in tempi brevi nuovi settori nevralgici il pensiero di IV, in grado di sopperire alle carenze strutturali ad oggi presenti in una città ormai di portata artistico-storico mondiale. Potenziare il pronto soccorso e dotare gli ospedali provinciali di strumentazione salvavita. Imprescindibile, infine, investire sulle professioni utilizzando capitale umano qualificato.